un elenchetto inattile vai vai fallo fallo oddio ah ma c'è di nuovo un cirica fa ghiaccio ce la fai a chiudere? si 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 sta facendo il giro da dietro da silo ne sto facendo uno centro mappa alla collina c'è la fai a chiudere non vedo aver tirato stato c ma non è capace di tirarla eh si anche io sono troppo grid ma che cazzo? ma mi sa che ha quelle che mi devi prendere in faccia ma io spero di no io spero di no ragazzi ho visto che ero già non mi poteva intare e cercare di colpire non c'è non c'è ma sia la propria ora Non c'è un po' di chiepeira E' un po' di farisei Ma è solo Entra l'argo E' sopra la montagna? Si lo so, se li trovo alle gomme Mi faccio vedere se non lo fanno C'è un totem acciso, facciamo Penso la camper C'è un totem acciso Lo fai? Non lo so Te lo faccio? Non lo so C'è un totem acciso Non lo so 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 Ti ho dato un pallet Così A casa Eh Mi sembra che non è il tot Questo Si No Si Se Si 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 Mi sembra che Ma Si Mi senti Ol vino Mi Penso Mi 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 non vedo nulla non vedo nulla dove sta? si vedono nulla ricarica vuole me oddio qua mi sa che è bravo lo continui a spaccare mi sembra anche questo è un fenomeno a me ha tirato delle baccette proprio in purelli vai bene no mi ha pigliato mio portone tutto muoio su non ho capito non vedo non ho capito ma cosa è arrivato? non non ho capito non ho capito non ho capito non ho capito ma non ho capito ma che tempo che si sta non ho capito non ho capito non non ho capito se ci sarà 9 ti prendo uno qua e uno di là chi è você? non io beh è lì, è lì è lì che gusto mi c'è io? allora noi se l'una ce l'ha è pazzi io lo uso un po' no, io uso tutto te l'ho salvato no, stanno aprendo vieni, vieni, vieni tu hanno aperto anche questa di ragazzina vicino di ragazzina è aperta è aperta? si, si oh cazzo no ma come ha fatto a morire quella? eh, perchè l'ha centrata ma quando? l'ha colpito con la boccetta ma quella che aveva lanciato a te all'uscita non 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 non